Allora, farò vedere una lezione normale, farò vedere una lezione con un oggetto, perché con i papini piccoli io uso l'oggetto come mediatore sul movimento. In un corridoio a che ripetisco le foto, sono tutti loco, quando erano prima, in seconda, noi ero tv, stiamo visto in questo momento. Sono due volte proprio per riprendere i contatti. E devo rispondere, ci siamo altri oggetti, oggi ne devo rispondere, non è tanto il progetto. Pronti. Bambini, vi alzate, per favore. Bambini, vi girate verso l'alto. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene. Bene, 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 bene Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.